Siamo a Frascati per questa nuova edizione della guida Slow Wine nell'azienda Rosler France e con noi è Elena, alla quale affidiamo il compito di raccontarci, spiegarci che cosa dovremo aspettarci nel trovare i suoi vini rappresentativi del territorio e della loro passione per il vino. Buongiorno a tutti, sono Elena Rosler France, sono titolare dell'azienda Rosler France e siamo sul territorio dal 1895 e gestisco l'azienda da più di 30 anni. Ci troviamo nel comprensorio del Frascati e nel 2017 sono partita con un progetto di vinificare e imbottigliare la Malvasia Puntinata, che è il vitigno per eccellenza nobile del Lazio e in seguito il bombino bianco. Il mio obiettivo è quello di creare, quindi di far conoscere dei vini che siano diversi da quello che abbiamo sul territorio. Quindi io faccio un discorso prettamente monoparietale, la Malvasia Puntinata che produco è una Malvasia Impurezza e anche il bombino bianco. Sono caratterizzati dalla loro caratteristica di quella di avere una notevole freschezza e mineralità. Qui ci troviamo, infatti, il terreno è un terreno vulcanico ed è una zona avvocata per eccellenza. I miei prodotti, i miei vini sono rivolti ad un consumatore che sia consapevole e in grado quindi di valutare l'eccellenza. Allora Elena, questo primo approccio con la guida è stato quasi sorprendente per noi, ma non per me che ti conosco già da un po' di tempo. Quindi ci auguriamo di rivederci presto e in altre occasioni anche sul territorio per poter degustare i vostri vini. Ti ringrazio moltissimo. Sono molto felice di entrare a far parte di questa guida così importante e veramente questo mi rende molto felice. Ti ringrazio ancora. Grazie a te.